Musica Professionista dal 65 al 79 è stato un campione completo, capace di tenere sul passo, di vincere in salita, a cronometro e anche in volata. E' uno dei sei corridori ad aver vinto tutti e tre i grandi giri, il Giro d'Italia per tre volte nel 67, nel 69 e nel 76, il Tour de France nel 1965 e la Vuelta di Espagna nel 1968. Ci troviamo a Bergamo nell'ufficio di papà, lui lavorava terminata la carriera di ciclista come agente assicurativo. Questo è l'ufficio che ci ha lasciato ad agosto scorso per partire per le sue vacanze in Sicilia con mamma e tale quale l'abbiamo lasciato. Per noi è un rituffarci quando entriamo qui nei ricordi e rivediamo papà la scrivania, vorremmo mantenere tutto così come è. Ci troviamo a Bergamo a circa 10 chilometri dal paese natale di papà che è Sedrina. Papà è nato nel 1942 da una famiglia umile, viene oggi ricordato anche per essere figlio della Postina Angela. Nasce infatti da papà camionista e mamma Postina. Una cosa particolare che forse non tutti sanno è che papà nasce settimino. Nasce settimino nel 1942 e a otto mesi viene diagnosticata un'ernia inguinale. Quindi il medico del paese consigliò a mia nonna di fare le fotografie a papà perché sottoporre ad un intervento di ernia inguinale un bambino di soli otto mesi all'epoca era alquanto rischioso. Quindi noi ricordiamo questa bellissima fotografia di papà ad otto mesi per questo motivo. L'intervento poi andò bene perché il seguito c'è stato. A Sedrina mio padre inizia un'attività sportiva legata più che altro all'oratorio. E all'oratorio di quei tempi lo sport principale era il calcio. Ma era un calciatore un po' scarso diciamo così. Prima l'hanno messo a fare l'ala e poi come tutti gli scarsi è finito in porta. Nasce però la passione per il ciclismo seguendo alla radio i duelli di Coppie e Bartali. Mio zio, fratello di papà che aveva quattro anni in più di lui Pinuccio, era copiano. Mio padre invece era uno sfegatato di Bartali come lo zio. E quindi in famiglia le guerre tra mio padre e mio zio sono un ricordo che hanno tutti, che abbiamo tutti. La passione per la bici lo porta a chiedere poi a mio nonno Mosè di acquistargli una bicicletta. Ma all'epoca non c'erano tanti soldi. Quindi mio nonno Mosè gli fece una promessa. Se mi paga il cliente dal quale devo riscuotere la fattura, diciamo così, da un paio di anni, ti prometto che ti vado a comprare la bicicletta. Non so se è stato il segno del destino o una casualità. Quel cliente pagò mio nonno la fattura e con quei soldi mio nonno comprò la prima bicicletta papà, un'ardea tutta rossa. Lui la ricordava sempre. Nel frattempo papà cresce, arriva a fare anche il sostituto di nonna Angela. Nonna Angela faceva la postina nel paese di Sedrina e quando doveva spostarsi nelle frazioni più in salita, quando la strada, diciamo, impennava, dava il compito a mio papà di portare e di recapitare la posta. Quindi il suo approccio con la bicicletta è un po' questo, l'ardea rossa e poi passa la bicicletta da donna della mamma. Fa una serie di scorribande con gli altri ragazzi del paese. Vanno addirittura a vedere i mondiali di Coppi e devo dire che quel ricordo rimase sulla pelle di papà. Molte volte raccontava l'emozione di aver visto il grande Coppi. Dopodiché l'oratorio del paese di Sedrina decide anche di fondare una piccola squadra di ciclismo. Nasce così la Sedrinese. E papà, insieme ad altri 4-5 ragazzotti del paese, inizia a correre. Stiamo parlando del 1959, più o meno. Quindi papà aveva 16 anni, gareteva nella squadra degli allievi. La prima corsa a cui si iscrive si disputa a Treviglio. Treviglio è diventata poi, dopo diversi anni, una cittadina importante per papà perché Treviglio è sede della Bianchi e guarda caso la sua prima corsa la disputa proprio a Treviglio. Raccontava sempre che per arrivare alla partenza della gara caricarono tutti i ragazzi della Sedrinese sul furgoncino del fruttivendolo, sul cassone dietro. Loro erano costretti a tenere le biciclette perché a causa delle vibrazioni tremava tutto. Arrivarono a Treviglio, papà partecipò alla gara e tagliò al traguardo, diciamo così, quando avevano già tolto lo striscione, quindi ultimo con una serie di cadute. Ma subito da quell'episodio e da quella prima gara venne fuori la determinazione di mio padre perché malgrado le cadute, malgrado fosse arrivato all'arrivo, quando oramai non c'era più nessuno, avevano tolto lo striscione, la sua determinazione nel perseverare in quello che per lui era uno sport, una passione, rimase immutata. Anzi, ancora di più, dentro di lui vi era la volontà di dimostrare quanto potesse fare con la bicicletta, quanto potesse arrivare lontano. E con la Sedrinese papà si tolse davvero tante soddisfazioni. Arrivò anche a fare tre anni da dilettante e nell'ultimo anno da dilettante, con la selezione nazionale, che vinse nel 1964 il tour dell'Avenir. Particolare di quel tour del 64 fu che papà, dalla Francia, chiamava a casa per sapere se le squadre professionistiche si erano fatte vive per ingaggiarlo, perché avrebbe voluto passare professionista quell'anno. Ed effettivamente si fece vivo Albani, che andò a conoscere i miei nonni a Sedrina, insieme ad Ernesto Colnago, che allora era il meccanico della Molteni. Il problema è che Albani aveva già ingaggiato per il 65 un altro dilettante di ottime speranze a livello lombardo, Gianni Motta. Quindi si creò il problema di dover far convivere papà con Gianni Motta alla Molteni. Per quello, diciamo, il contratto sfumò. Qualche giorno dopo, il signor Ghisalberti, che si occupava un po' di queste cose per mio padre, lo chiamò in Francia per dirgli, guarda, che sono stati qui i fratelli Salvarani, l'anno prossimo gareggerai per la squadra di Parma. Il 64, quindi, anno importante con la vittoria al tour dell'Avenir, ma altrettanto importante per la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, dove papà fu selezionato. Non fece un grande risultato perché, se non sbaglio, arrivò il 33esimo al traguardo di una gara vinta da un italiano, Zanin. Ma diciamo che quel Tokyo 64 è stato un preambolo di una grande sfida. Perché? Perché all'ultimo giro dal gruppo esce un corridore belga. Un corridore belga di potenza, di forza. Dopo qualche chilometro dal gruppo esce un corridore italiano ed è Felice Gimondi. Si trovano quindi in testa due corridori, un belga e un italiano. I loro nomi sono Eddie Merckx e Felice Gimondi. Quello è il primo incontro che hanno a livello agonistico. Vengono poi riassorbiti dal gruppo e Zanin vince la volata. È stato quindi un incontro a Tokyo tra due campioni che secondo me hanno poi scandito le pagine più importanti del ciclismo dalla fine degli anni Sessanta fino ai primi anni Settanta. Nel 64 quindi papà torna a Sedrina con la maglia gialla del Tour dell'Avenir e con la maglia azzurra della Nazionale, sapendo che l'anno dopo sarà un corridore a tutti gli effetti del team Salvarani. E in Salvarani papà fa due incontri importanti. Da una parte Luciano Pezzi, che è stato il suo direttore sportivo, che è stato senz'altro la persona che l'ha portato a conoscere il mondo del ciclismo, che l'ha aiutato a capire determinate dinamiche e che è stato per papà un secondo padre. E incontra anche quello che nel 65 era il suo capitano, cioè Vittorio Adorni. Vittorio è stato importante non solo a livello agonistico, perché da giovane leva, qual era papà, lo misero subito in camera con Vittorio, quindi il capitano che faceva un po' da chioccia a questo giovane corridore bergamasco. Tra l'altro un corridore di Parma, molto bravo a parlare, socievole, di empatia, con un ragazzo un po' musone della Valle Brembana, che poco parlava. Quindi Vittorio ogni tanto racconta che stavano in camera, ma era quasi un monologo perché parlava solo lui e papà ascoltava. Ma lo ascoltava con molta attenzione, perché Vittorio sotto questo profilo era davvero un bravissimo tattico di corsa. Quindi molto ha passato a mio padre e molto l'ha aiutato in quel primo anno. Vittorio è anche importante per mio padre e per la nostra famiglia per un altro motivo, perché presenta mia mamma, Tiziana, a papà. Siamo nel ritiro Salvarani di inizio 65. La Salvarani era in ritiro presso l'albergo dei nonni di mia mamma, a Diano Marina, perché la Salvarani all'epoca faceva il ritiro di primavera in Liguria. Vittorio, che già conosceva i miei nonni, perché era stato in albergo gli anni prima, sempre con la Salvarani, presenta papà a mamma. Papà all'epoca aveva 23 anni e mia mamma ne aveva 16. Quindi per noi la figura di Vittorio Adorni è anche legata alla famiglia. Nel 65 papà parte subito forte, arriva terzo al Giro d'Italia, classifica finale, vinta dal suo capitano Vittorio Adorni. I fratelli Salvarani sono già contentissimi per quanto papà ha raggiunto nei primi mesi di professionismo. Però gli propongono di partecipare al Tour de France, in sostituzione di un compagno che doveva partire, ma che all'ultimo momento ha dei problemi di salute e quindi hanno bisogno di far partecipare un altro corridore al suo posto. Papà lusingato non dice subito di sì, risponde ne devo parlare con mio padre prima, sento cosa mi dice mio padre, anche se nella testa aveva già deciso che ci sarebbe andato, e poi vi faccio sapere. E quindi la sua partecipazione a quel Tour del 65, diciamo, fu del tutto inaspettata, inattesa per lui e per la famiglia. Di fatto papà va, i fratelli Salvarani gli dicono di star tranquillo, che può correre anche soltanto una settimana per fare esperienza, e può tranquillamente ritirarsi. Non era lì per vincere e tanto meno per fare classifica, ma era lì per fare esperienza. Bene, arrivato al Tour de France, si mette subito in luce nelle prime tappe e indossa anche la maglia gialla. A quel punto lì provano a dire se vuoi fermati, ma non ci si può fermare quando si indossa la maglia gialla, e anche se il tuo capitano si chiama Vittorio Adorni, e tu dovresti giocare d'appoggio a lui. Tanto è vero che in quell'edizione del Tour, Vittorio si ritira per problemi gastrointestinali, papà rimane di fatto il capitano della Salvarani, e tutti quanti gli altri corridori del team si coalizzano intorno a lui, lo aiutano, perché era un neoprofessionista, c'erano invece squadra ciclisti di esperienza comprovata, come Pombianco, Guerra e via dicendo, si coalizzano col papà, lo aiutano tantissimo, e arriva a Parigi con l'ambita maglia gialla. Dopo più di 50 anni, quello che mio padre ricordava della sua Vittorio al Tour era il boato della gente, quando è entrata all'interno del Parco dei Principi, al velodromo del Parco dei Principi, e quando, indossando la maglia gialla, è salito sul podio. Questo a distanza di 50 anni lo faceva ancora emozionare. Torna a Sedrina, e come potete capire, Sedrina in festa. Un corridore bergamasco, un corridore di una terra così schiva, così lontana, diciamo, da quello che poteva essere la dinamica del ciclismo, una terra di lavoratori, di gente umile, vede arrivare un suo figlio sul gradino più alto del Tour de France, indossando la maglia gialla, ricordando un po' quello che era Fausto Coppi. E lì, davvero, la stampa non lesinò complimenti, dicendo, Felice Ginundi è il nuovo Fausto Coppi. La stagione si chiude. All'inizio del 1966, Papà ottiene due grandissimi successi, Parigi-Roubaix e Parigi-Bruxelles, quindi due classiche importantissime. La Parigi-Roubaix dice l'ho vinta soffrendo, faceva freddo, riuscivano a mangiare poco, arrivò da solo, con gli ultimi 40 chilometri fatti in fuga, in solitaria, e si ricordava ancora il freddo che aveva patito e i guanti blu, guanti militari che gli avevano regalato, ma che nell'occasione si rivelarono senz'altro un grandissimo regalo, perché con quelli riuscì quantomeno a contrastare il freddo. A seguire, devo dire, che in Salvarani papà si tolse grandissime soddisfazioni. Arrivò anche a condividere la squadra e lo scetro di capitano con Gianni Motta, anche se la convivenza non fu tra le più semplici, perché erano due caratteri totalmente diversi. Papà molto schivo, papà che parlava poco, Gianni invece è una persona esuberante, una persona che ama all'allegria, quindi in squadra la convivenza non è stata semplicissima. Vince quindi papà un giro d'Italia e credo che sia tra le immagini più belle che noi abbiamo, quello dell'arrivo a Milano con mia madre che era ancora fidanzata non erano ancora sposati che lo aspetta e qui viene presentata alla stampa come la sua compagna. Dopodiché i successi più grandi, adesso non voglio neanche tediarvi ricordando tutte quante le sue gare più importanti, credo che siano stati i mondiali del 73 a Barcellona. Perché questo? perché papà dal 65 al 66 io credo al 67 sia stato il corridore più forte. Nel 67 si affaccia a quel corridore belga che lui aveva incontrato alle Olimpiadi di Tokyo, Eddie, Eddie Merckx. All'inizio pareva dovesse essere un gran passista con doti da velocista e invece poi Eddie si rivelò un campione a 360 gradi. Bravissimo a cronometro, bravissimo nelle corse a tappe, non lasciava nulla ai suoi avversari, tanto è vero che fu soprannominato il cannibale e papà in questi anni soffrì molto la presenza di Eddie in gruppo perché se dal 65 al 67 poteva definirsi il corridore più forte quindi poteva impostare la corsa come più gli piaceva partendo anche da lontano quindi con fughe a 50 a 60 chilometri dall'arrivo quando Eddie inizia a dettare la sua legge fughe di questo tipo non sono più possibili non sono più possibili perché il principio è quello di aspettare quello che fa Eddie quindi non si parte più a 50 a 60 chilometri dal traguardo perché se poi parte Eddie ti stacca e ti lascia lì da solo e fai anche brutta figura quindi bisogna reimpostare la tattica bisogna rivedere il modo di correre e papà in questi anni effettivamente fa un po' di fatica ma non molla non molla perché è determinato perché ha sempre detto che Eddie era senz'altro il più forte di tutti e lui doveva essere il primo degli umani cioè il primo corridore che arrivava dopo quello che era un supereroe un superuomo il primo degli umani doveva essere lui e c'è una frase che mi piace molto perché dice non sono il primo dei perdenti ma sono l'ultimo ad essermi arreso quando arrivo dietro dietro a Eddie la corsa che secondo me papà ricordava di più riferendosi ad Eddie è stato il campionato del mondo a Mendrisio un campionato duro un campionato dove ci sono diversi giri da fare da compiere con una salita particolare e papà e Eddie rimangono da soli loro due mi raccontava papà ma che ad un certo punto non stava neppure a ruota di Eddie perché viaggiavano paralleli il perché dovesse viaggiare parallelo era semplice doveva fargli capire che stava bene che era forte che non stava a ruota perché ad Eddie bastava lasciare mezzo metro e non lo prendevi più quindi il fatto di stare appaiati di stare a gomito a gomito era un modo per dire guarda che oggi sto bene guarda che oggi ci sono e non ti mollo e relativamente a questa corsa cioè il campionato del mondo di Mendrisio io credo che abbia ispirato il cantante Enrico Ruggeri quando ha preparato la canzone che poi ha dedicato a mio padre e che fa proprio riferimento al fatto che Felice Gimondi non mollava la ruota di Eddie Merckx Felice Gimondi dice quando ti girerai io sarò lì non ti lascerò e quello fu un campionato del mondo particolare perché poi ritornato a casa papà si accorse che aveva avuto una contrattura alla mandibola cioè visto che non voleva mollare la ruota di Eddie continuava a stringere la mandibola a stringere i denti e al termine della corsa si rese conto di essersi procurato quasi una lussazione della mandibola proprio per lo sforzo che aveva fatto per non lasciare il rivale di sempre come ho detto poi sempre relativamente ai mondiali la gara che papà ricordava e che per lui è stato suggello di una carriera fantastica è stato il mondiale di Barcellona quando ne parlava diceva subito mi sentivo una responsabilità particolare perché il tecnico da allora aveva deciso di lasciare a casa motta e di portare solo me quindi ero a tutti gli effetti il capitano unico ma mi sentivo alla responsabilità perché era stata fatta una scelta importante quindi avrei dovuto dare non il 100% ma il 110 e a quel mondiale di Barcellona papà arriva senz'altro in ottima forma tanto è vero che nel giro finale rimangono soltanto quattro corridori Eddie Merckx Martens Ocania e papà quindi due belgi un italiano e uno spagnolo se dovessimo contare le gare che questi corridori in carriera hanno vinto ci impressioneremmo perché non dimentichiamo che Martens vinse poi due campionati del mondo non dimentichiamo il palmarès di Eddie Merckx ma anche quello di Ocania che era un atleta spagnolo completo davvero molto bravo per il quale mio padre aveva una grandissima stima quindi quattro atleti top player possiamo dire nell'ultimo giro di questo circuito del mondiale che si disputava proprio a Barcellona su un percorso duro perché con sali scendi e con strapi anche all'8-9% papà decide di tenere la ruota di Eddie quindi di non fare scatti di non sprecare energie ma di mettersi a ruota di Eddie per vedere tatticamente cosa intende fare il più forte e ad un certo punto vede che Eddie parla con Martens Eddie e Martens erano entrambi della nazionale belga soltanto che Martens era un neoprofessionista Eddie era il capitano il veterano il campione con più titoli al mondo quindi Eddie da istruzioni diciamo così a Martens di tirargli la volata a quel punto papà capisce capisce perché vede come Eddie si rapporta a Martens e per questo motivo a maggior ragione decide di stare a ruota di Eddie nell'ultimo chilometro così come papà aveva previsto Martens parte molto secco per tirare la volata ad Eddie di Merckx papà dice che lì a quel punto vede però Eddie che non è l'Eddie di sempre fa fatica a partire fa fatica a prendere la ruota di Martens e quindi in quel momento papà decide a sua volta di anticipare Eddie Eddie molla nel senso che si rende conto che non è in grado di vincere Martens si accorge che il suo capitano è in difficoltà allora a quel punto duella con papà che stava rimontando e papà che qualche gara in pista l'aveva fatta apre un po' il gomito per diciamo così per difendersi e taglia per primo il traguardo è stata senz'altro quella la vittoria che ha suggellato io credo una carriera importantissima perché indossare la maglia iridata e sul podio vai a finire con Martens e Ocania è stata senz'altro secondo me una gara tattica perfetta e forse pochi quando hanno assistito all'ultimo giro dalla televisione avrebbero scommesso su papà forse solo i Gimondiani che sono ancora tanti oggi malgrado siano passati 50 anni ma tanti l'avrebbero dato molto probabilmente per perdente ma non battuto semplicemente da Eddie ma molto probabilmente del quartetto poteva ambire ad un terzo posto invece no vince suggella ripeto una carriera importante l'anno dopo alla Milano Sanremo papà arriva in via Cavallotti con la maglia di campione del mondo alzando le braccia al cielo quindi finito il mondiale portato a termine il mondiale papà non smette di fare il corridore rimane con la testa sulle spalle grande professionista continua ad allenarsi d'inverno e arriva subito a marzo in ottima forma e con quella maglia di campione del mondo sfreccia sulle strade della Liguria che aveva dato che ha dato ai Natali e la mia mamma e arriva da solo a tagliare il traguardo della Milano Sanremo altro secondo me importante trionfo di papà è stato l'ultimo giro d'Italia vinto nel 1976 era definito il vecchietto del gruppo anche lì molti probabilmente non lo davano per vincente invece arriva a Milano con la maglia rosa arriva a Milano con la maglia rosa vincendo una tappa bellissima nella sua Bergamo l'arrivo era qui a qualche chilometro davanti al teatro Donizetti dopo una curva secca a 90 gradi sulla destra presa in testa da papà tiene duro all'attacco alla rimonta che ha Eddie Merckx e taglia per primo il traguardo molti dicono che Eddie fece vincere papà assolutamente no Eddie che poi ho rivisto l'ottobre scorso a casa perché è venuto a salutare me e mamma ha subito precisato che con papà sono state grandi battaglie che lui e papà non ha mai regalato nulla papà si è sempre guadagnato le sue vittorie con tanto sudore e tanta fatica il giro d'Italia del 76 ripeto porta papà ancora una volta in trionfo Eddie che non stava bene aveva problemi di salute non si ritira arriva a Milano e secondo me lo fa per onorare mio padre che in quell'occasione l'aveva battuto negli anni a seguire poi è chiaro sia papà che Eddie non sono più giovanissimi quindi sono sul finire di carriera papà aiuta Demu Inc a vincere il giro d'Italia all'interno del team che era a quell'epoca la Bianchi Faima e rimane legato poi al marchio Bianchi fino ai giorni nostri prima è stato uomo immagine poi è stato presidente della squadra di mountain bike fino ad agosto scorso è stato attivo all'interno dell'azienda in questa carriera io adesso passando questo libro che è un libro fotografico che abbiamo realizzato per i 70 anni di papà vedo tante fotografie con tanti amici dal Piero Piazzalunga non so se è noto alle cronache ma Piero Piazzalunga è stato il meccanico di mio padre per tutta la carriera sportiva sia dal passaggio alla Salvarani per poi arrivare in Bianchi detto anche Pinza d'Oro Pinza d'Oro era il premio che davano ai meccanici con particolari qualità e capacità e Piero era proprio soprannominato Pinza d'Oro perché il premio a fine stagione arrivava lui era anche meccanico Piero della Nazionale quindi una vita la loro intrecciata intrecciata due bergamaschi perché Piero è di seriate che hanno condiviso 15 anni di vita insieme sulle strade non solo d'Italia ma del mondo con massimo rispetto uno per l'altro tant'è vero che anche ultimamente si frequentavano e papà andava a trovare Piero di sovente vedendo questo libro non posso non richiamare anche un altro amico di papà che è Giancarlo Ferretti Giancarlo Ferretti è stato suo gregario alla Salvarani e poi direttore sportivo alla Bianchi sul finire di carriera Giancarlo detto anche Ferron era una persona particolare uno degli amici più fidati uno dei gregari più fidati di papà ad inizio carriera con lui poi ce ne sono stati tanti c'è stato Tony Ubrecht che era un corridore belga che ha corso diversi anni con papà c'è stato Giacinto Sant'Ambrogio un corridore di Seregno che ha corso in Molteni e poi in Bianchi con lui anche con lui condivideva non solo le gare ma anche gli allenamenti perché vivevano vicini e noi come famiglie ci frequentevamo Sergio Persani che era di Bergamo e che passò professionista alla Bianchi insieme a papà come capitano e tanti altri con i quali il ciclismo di allora consentiva io credo a differenza di quello di oggi di poter instaurare rapporti umani rapporti che andavano ben oltre il semplice dato lavorativo ben oltre il fatto che si portasse la stessa maglia rapporti che si consolidavano poi negli anni e che anche a distanza di 30 o 40 anni erano ancora vivi questo lo posso dire perché quando poi l'anno scorso è scomparso papà abbiamo avuto tanti ex compagni di squadra tanti anche ex antagonisti starci vicino chiamarci addolorati per quanto è capitato il ciclismo moderno forse in questo manca un po' devo anche dire però che mio padre quando correva da capitano imponeva tra virgolette i propri gregari cioè l'uomini i due o tre di fiducia suoi con i quali si allenava ai quali dava la massima fiducia li imponeva alla squadra quindi chiedeva che fossero ingaggiati e che continuassero con lui anche nelle stagioni successive oggi per dire un atteggiamento di questo tipo non c'è più il capitano forse un po' in termini un po' più egoistici pensa a se stesso e non valuta invece quanto sia importante facendo una vita spesse volte fuori casa per lunghi periodi anche avere accanto a sé persone di fiducia che non siano soltanto validi sotto un profilo lavorativo ma anche che umanamente siano in grado di supportarti e papà in questo era senz'altro una persona molto intelligente perché ripeto dal meccanico Piero Piazzalunga al massaggiatore a Tospirovano ai vari gregari che ha avuto cercava comunque di attorniarsi di un entourage del quale si fidava che gli dava serenità non solo in corsa ma anche poi quando si era in albergo prima delle gare e questo lo aiutava ad affrontare senz'altro la lontananza da casa nel migliore dei modi il ricordo più bello che ho è legato ad un episodio di un paio di anni fa perché chi mi ha messo in bicicletta è stato papà io quando lui era alle corse avevo una biciclettina con le rotelle e passavo il pomeriggio a girare su questa biciclettina insieme a mio cugino Massimo a mia cugina facevamo le gare in casa diciamo così non ha mai voluto fino ai 20 anni che io acquistassi una bicicletta da corsa perché all'epoca la bicicletta da corsa era solo per i maschi quindi per le donne la bicicletta da corsa era una cosa pericolosa il manubrio fatto in questo modo era difficile da gestire quindi non me l'ha mai acquistata me la sono comprata io quando ho iniziato l'università naturalmente è stata una Bianchi beh quello che volevo dire è che mi ha insegnato lui ad andare in bicicletta perché mi ci portava lui mi ci portava lui e mi faceva fare una fatica tremenda tremenda perché lui si metteva davanti pronti via e ti diceva tu stami a ruota il problema era stare a ruota perché non riuscivo a tenere la ruota quindi lui andava primi chilometri tenevo duro pur di star lì però quando si girava mi veniva indietro di 20 metri anziché incoraggiarmi mi diceva ti avevo detto di stare a ruota così facevi meno fatica facevo fatica anche a ruota io sostanzialmente però testa dura ho continuato e sono felice di aver ereditato da lui questa passione dicevo un paio di anni fa siamo usciti in bicicletta insieme in riviera noi abbiamo una casa di Anomarina quindi ad agosto uscivamo in bicicletta io e lui facendo i vari capi capo Berta capo Cervo e poi l'entroterra mi sono accorta che non andava più tanto forte quando affrontando un capo io davanti e lui dietro non lo sento più però non mi volevo girare perché ho detto se mi giro ed è lì poi mi parte faccio fatica io a riprenderlo quindi sono arrivata in cima e ho visto arrivando in cima al capo che effettivamente si era sfilato ma in modo molto intelligente riusciva a cambiare a dare la cambiata in maniera talmente silenziosa che tu davanti non ti accorgevi che lui era in difficoltà ti stupivi per il silenzio quindi quello che era anomalo è il fatto di non sentire la presenza lì ma non avevi contezza proprio immediata perché non sentivi la cambiata cioè non ti rendevi conto che lui era in difficoltà e quindi stava cambiando a quel punto lì dentro di me ho detto toh fa che ho battuto Gimondi e questo è il ricordo di mio papà è stata una persona eccezionale sono sicura che avrebbe insegnato molto a tanti altri ragazzi come ha fatto perché sotto di lui sia in ambito di ciclismo professionistico che di mountain bike sono cresciuti tanti ragazzi che poi sono diventati campioni dovremmo avere secondo me la capacità di valorizzare queste persone che hanno fatto tanto hanno dato tanto e che hanno molto da trasmettere a chi oggi parte da ragazzino e può trovare nello sport e in modo particolare nella bicicletta una sua realizzazione sia come uomo che come professionista come qualcuno che di una passione può davvero farne un lavoro la bicicletta per mio padre è stata innanzitutto una passione una passione che lo portava ancora a 77 anni ad uscire il sabato e la domenica per percorrere i suoi 40-50 km tornava a casa e ti diceva che stava bene stava bene perché aveva soddisfatto quella passione che fin da bambino aveva quindi mi raccomando ed è un messaggio per i giovani andate in bicicletta con passione non guardate al ciclismo come un lavoro ma ad un modo per rincorrere i vostri sogni perché in sella ad una bicicletta potete raggiungere davvero mete importanti e il mio papà ve l'ha insegnato ciao a tutti una volta inventare di fare un qualcosa è facile il problema dopo è durare